Ebbene carissimi amici, quest'oggi non vado a presentarvi un metodo, ma con questa vincita che state vedendo vado a presentarvi un progetto di un mio gruppo facebook che ho già attivato nel mese di giugno, molti utenti già lo conoscono, però voglio far sì che questa nuova avventura questo nuovo progetto vincente venga portato a conoscenza di più persone possibili, quindi pubblico sul mio canale youtube proprio le vincite ottenute con il primo mese di gioco del mio gruppo facebook Sbancalotto Spia, è un gruppo facebook ovviamente non aperto a tutti, è bisogna inviare l'iscrizione, ovviamente dovrà essere accettata da me che sono l'amministratore, ed è un gruppo facebook molto importante, molto particolare, tanti utenti in privato già hanno mandato la loro adesione e in creduli, molti sono rimasti in creduli, si sono ritrovati subito vincendi con Ambosecco a ruota secca e non solo uno. Questo progetto l'ho fatto partire nel mese di giugno ed è un progetto che prevede l'invio di due proposte principali, quindi un'unica giocata mensile dove abbiamo un metodo spia composto da un estratto e 4 ambisecchi su due ruote fisse, quindi non solo avrete la giocata in corso del metodo ma potrete collezionare anche questo metodo che rimarrà sempre vostro e inoltre come seconda proposta viene dato il jolly 90 che sarebbe una proposta con il 90 su due ruote fisse e un solo Ambo secco con il 90, ok? Cerco di proporre l'Ambo più forte con il 90. Questa vincita che vedete qui è l'ultima vincita che è stata realizzata proprio da tutti gli iscritti al mio gruppo, tutti gli abbonati, perché in questo gruppo facebook viene versata una quota, una piccolissima quota come abbonamento mensile. Davo il 90, 63, su Palermo e Roma, però poi detto un aggiornamento dove inserivo anche Cagliari, però la giocata, quella che avevo dato originaria, era il 90 su Palermo e Roma e l'Ambosecco 90, 63. È stato vinto l'Ambosecco 90, 63 su Palermo. Questa è una vincita documentata, una vincita reale. Non so quanti studiosi in Italia possano far vedere queste cose qui. Questa non è stata l'unica vincita del mese di luglio. perché abbiamo avuto anche un'altra vincita. Questa qui, quando il gruppo è partito, abbiamo vinto subito il 33,90 a Genova. Come vedete sono due ruote fisse. Ok? È un unico Ambo. Qui diciamo che l'Estrattore è il 33, però l'Ambosecco era 90, 33. Ed è arrivata la prima vincita, vinta da tantissimi utenti. La seconda, poi proposta, quando poi ho inviato la nuova giocata, siamo andati a vincere il 7 di luglio l'Ambosecco 75-60. Questa dal metodo Spia. E l'ultima vincita è proprio questa del 63,90 su Palermo. Quindi, possiamo riassumere, nel mese di luglio abbiamo vinto ben 3 ambi secchi su ruota fissa, con pochissimi numeri in gioco. Un metodo Spia, 4 ambi su due ruote, e il 90, un Ambo su due ruote. Questo è ciò che io propongo nell'abbonamento del mio gruppo Facebook, Sbanca Spia, Sbanca Lotto Spia si chiama, Previsioni Lotto. Potete cercarlo su Facebook. Comunque, metterò il link per inviare l'iscrizione. Qui, io mi sento, ovviamente, di garantire la vincita. Ovviamente, al gioco dell'otto non si può dare la certezza. Però, per come stanno andando le cose, tutti i miei iscritti, tutti i miei abbonati, possono testimoniare che abbiamo vinto 3 ambi a ruota. Ok? Quindi, trovatevi un altro che vince 3 ambi a ruota secca, con le testimonianze originali ogni mese. E poi, ne riparliamo. E quindi, mi sento veramente di garantire la vincita. Almeno un Ambo. Almeno un Ambo lo prendiamo al mese. Almeno un Ambo lo prendiamo. E non finisce qui. Perché nel gruppo, anche quando si vince, o con il metodo Spia o con il 90, io rinnovo sia il metodo Spia, sia la giocata con il 90. Quindi, in qualunque momento del mese andate ad aderire, trovate sempre la giocata disponibile. Questo è molto importante. Dopo questo 90-63, arriveranno sicuramente altre vincite, perché abbiamo sotto mano delle giocate molto potenti. Il binomio è sempre quello. Metodo Spia, un estratto e 4 ambi sulle ruote. Il 90, un solo Ambo secco proposto con il 90. Quindi, cari amici, io vi attendo numerosi. Contattatemi in privato al mio indirizzo mail in descrizione per conoscere quali sono le modalità di abbonamento per entrare a fare parte del gruppo Sbanca l'Ottospia e per vincere con queste previsioni. Ho voluto pubblicare questo video sul mio canale YouTube, in modo che anche questo mio progetto, questa mia nuova avventura possa essere conosciuta da molta più gente, ovviamente, perché più siamo a vincere, meglio è. Per il momento vi saluto. Abbiamo già due giocate pronte dopo questa vincita e arriveranno sicuramente altre vincite. Quindi, per il momento, un saluto a tutti e mi raccomando, sempre vincenti, Mr. Sbancolotto. Ciao!